Si chiama eHealth Technology e Help Me è la sua applicazione fiore all'occhiello della digitalizzazione sanitaria destinata a portare l'Abruzzo ad adeguarsi agli standard europei coerentemente con quanto stabilito nelle linee guida del Ministero della Sanità. E' altamente innovativa, rappresenta il filo diretto con il medico, il diario farmacologico, lo strumento di automonitoraggio dei pazienti affetti da patologie croniche, il sistema di prevenzione, la cartella digitale. Nel progetto di ricerca si è parlato a Pescara in un convegno che si è svolto al Museo delle Genti d'Abruzzo, al quale hanno partecipato luminari del settore medico-scientifico. L'evento è stato accreditato anche dal provider nazionale Espansione e gli iscritti hanno così potuto beneficiare di 12 crediti ECM, educazione continua medica. E-Health Technology è un progetto di ricerca industriale finanziato nell'ambito del PORFESR 2007-2013 che sostiene la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Il prototipo dell'applicazione è stato sviluppato dalla Delta System SRL di Spoltore, realtà dell'Information Technology specializzata nella realizzazione di software capofila del raggruppamento temporaneo di imprese. Nel 2020 la teleassistenza sarà diffusa in tutta l'Europa e per questo durante i lavori del convegno si è parlato anche e soprattutto di assistenza territoriale e mobile.